Ciao bimbe, allora siamo tornata con un video speciale e qui ovviamente c'è una amica speciale che è la Kate, come sapete che ormai partecipo e infatti ho visto un'altra challenge che dobbiamo fare, però si va più avanti. Oggi come leggete dal titolo è un giveaway e questo giveaway sarà il giveaway più lungo che faccio sul mio canale. Allora, era da tanto tempo che volevo fare questo giveaway, però ho sempre rimandato, ne ho fatto uno per vedere come funzionava e tutto, non mi guardare così perché per no fai un pappino e quindi ho preso un pensierino per voi e spero vi piaccia. Allora, diciamo subito le regole, ovviamente essere iscritti al mio canale come prima regola, poi seconda regola mettere mi piace a questo video, terza regola condividere questo video su Facebook e taggare delle amiche, ma taggare delle amiche è facoltativo e poi quarta regola la c'è, non so, non è una condizione oscena e qui vi faccio vedere il pensierino. Allora, devo premettere che nemmeno io so cosa c'è dentro, nel senso so in queste tre caramelline fatte di carta, più o meno so cosa c'è e con l'aiuto di lei, perché in inglese non ci capisco una mazza, c'è uno smalto, un hermer board, sarebbe se detto un alimento, ah guarda ce l'ha scritto, un duo eye shadow, quindi un ombretto, una matita per gli occhi, per il contorno, la lapis de contorno, la posta, la posta, la testa, e poi c'è un lip gloss, di fila labbra, lip pencil, una matita per le labbra, e basta, e poi basta, basta, è fatto in questa maniera, spero che lo riusciate a vedere, e sono della marca shit chat, kit cat, kit cat, no, sono io di fuori oggi, no, kit chat, kit chat si chiama la marca, e sono molto molto carine le confezioni, perché sono, vedete, sono con gli occhi di make up, no, questa marca mi piace, è un casino, veramente, e niente, quindi la vincitrice di questo premio mi farà sapere, tramite una foto su Instagram, non lo so, cosa c'è all'interno di queste tre caramelline di carta, e niente, bimbe, non so quanto sta durando questo video, ma secondo me è poco, niente, e le regole ho detto, vi ho fatto vedere il premio, bimbe, io ora vi mando tantissimi, tantissimi bacioni, e di nuovo in bocca al lupo, e ci vediamo al prossimo video, ciao!